Mattespot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Buongiorno, buongiorno a tutti, nuovo appuntamento con si gonfia la rete, con la nostra voce di popolo, con la vostra voce che arriva allo 081636363 per le telefonate al 3396669990. Per quanto riguarda invece i whatsapp scritti e vocali, aspettando la nazionale che giocherà questa sera alle 21 contro la Svizzera, con tanto Napoli anche in campo, sicuramente Lorenzo Insigne e probabilmente anche di Lorenzo, qualora vincesse il terzino azzurro, il balottaggio con Toloi. Quindi parleremo di questi Italia-Svizzera, Raffaele, ma ovviamente parleremo soprattutto del mercato del Napoli, delle prospettive in entrata e in uscita con una domanda che ti faccio subito. Che peccato vede il partito, un giocatore come Rodrigo De Paul per 35 milioni, ho visto anche spese maggiori dai club di Serie A negli ultimi anni, era una cifra con giocatori del genere, si poteva prendere magari non a Napoli, ma da qualche altra parte sì. Ciao Andrea, però tu dici che è peccato veder partire Rodrigo De Paul a questa cifra, ma guarda che oggi tutte le cifre sono calate e Rodrigo De Paul è stato pagato tanto rispetto al momento. Oppure voi pensate, immaginate, sospettate che Coulibaly e Fabian Ruiz possano essere venduti alle cifre che ha in mente De Laurentiis? Io credo proprio di no, caro Andrea Falco, 50-60 milioni per Fabian Ruiz, ma oggi chi te li dà? Un calciatore che tra l'altro non è manco titolare di una delle peggiori Spagne della storia delle furie rosse. Se vai a vedere, vai a confrontare la Spagna che vinse il mondiale dove? In Brasile dove l'ha vinto la Spagna? in 2014 se non sbaglio. No, la Spagna ha vinto nel 2010 in Sudafrica. 2010 in Sudafrica. Vai a vedere quella formazione e vedi quella di oggi. Ma non c'è proprio paragone, la Spagna di oggi è una squadra super giù come tante altre. E Fabian Ruiz non è titolare di questa Spagna, quindi veramente vogliamo pensare che qualcuno ci porti 60 milioni per Fabian Ruiz? Io temo di no. Ci ho mai pensato. Ma manco io, però voglio dire. Devo essere sincero. Devi sapere, caro Andrea Falco, che fino a ieri le domande, le osservazioni, l'incalzare dei tiforie era su Napoli. Verona, che cosa è successo? Vogliamo la verità. Da ieri sai su che cosa ci stanno interpellando con una certa frequenza? Sai su che cosa? Che cosa? E dai, ma come le parole di te Laurentiis? Dai, su. Cioè, ti leggo uno dei tanti messaggi arrivati. Uno dei tanti messaggi arrivati. Mi sembra uno che si sveglia adesso. Ne abbiamo parlato tutta la serata di ieri. Ma è normale che la gente si chiede, per esempio, Davide D'Abarra. Le parole di ADL hanno ancora una volta precisato che l'aspetto sportivo a lui non interessa. Cioè, arriva questo messaggio alla gente, capito Andrea? Arriva questo messaggio che De Laurentiis, in un so quanto tempo a questo festival ad asti, parla di tutto tranne che di calcio. Ha parlato circa un'ora e un quarto, un'ora e venti, più o meno. Ma non ha mai parlato di calcio, se non dicendo, lasciando sospettare che chissà cosa fosse successo, gli scudetti. Come ha detto quella parola, ha utilizzato quel termine... Calcio malato. Calcio malato e... Viziato dall'estituzione. Viziato e malato. Ma caro presidente De Laurentiis, se il calcio è malato e viziato, ma perché non lo denunci questo fatto? Tu avresti con te, ma milioni e milioni di tifosi del Napoli a sostenerti in questa battaglia. Il calcio malato e viziato. Ci stai dentro, però non è che dici nulla. Il Napoli è uscito dalla Champions a mezz'ora dalla fine del campionato e io non ho sentito una parola di rammarico. Non voglio dire altro, almeno di rammarico da parte del presidente. Ha parlato solo di progetti finanziari e non sportivi. Io non credo che sia questo lo spirito per vivere il calcio. Perché prima o poi finirà, se la gente si stufa, finirà il calcio. Poi voglia fare i conti, i progetti finanziari, vendo questo a X e l'altro a Y. Dopo è finita la zizzinella, come diciamo, dalle nostre parti. Andiamo al telefono che c'è Antonio. Ciao Raffaele, buongiorno. Tenti Raffaele, io ti volevo dire una cosa. Sai da cosa nasce un disinnamoramento di un qualcosa? Da o una grossa delusione o quando tu ti accorgi che dall'altra parte c'è un disinteressamento totale. Allora io dico, come è possibile chiudere un campionato in quella maniera, con una partita così poco degnitosa, poco offensiva per i tifosi che l'hanno seguita. Allora io chiedo una cosa. Questo è considerato che noi siamo quelli che arricchiamo la società calcio Napoli e tutti i calciatori. Ma quantomeno, no? Dico quantomeno. Non dico una spiegazione perché loro potrebbero raccontarci quello che vogliono. Stai dicendo le stesse cose che stiamo dicendo da dieci giorni, capito? Antonio, chiedere scusa di che cosa? Io non lo so, di che cosa dovrebbero chiedere scusa? Dicendo abbiamo fatto schifo, vi chiediamo scusa. Ok, a te serve che ti chiedano scusa dopo che hanno fatto schifo. Cioè, chiedere scusa dopo aver commesso un reato, ma non basta. Come Orsato che chiede scusa dopo tre anni per l'episodio di Pjanic. Tu sei contento che ha chiesto scusa? Io no, sinceramente no. Enrico da Caserta scrive Volevo chiedere, De Laurentiis, invece di fare una serie sul Napoli che ha detto che farà questa serie, anzi tre serie sul Napoli perché non fa un bel film giallo sulla partita Napoli-Verona? Tanto credo che la serie fra un po' la farà Report. Vedi Andrea, c'è anche molta arguzia nei nostri amici che ci seguono. Perché con l'ironia a volte dici tante cose che altrimenti non diresti. Da sfogo poi a quella che è un po' di amarezza, di frustrazione che è rimasta nei tifosi. C'è Lello al telefono? Sì, c'è Lello. Ciao ragazzi, io ogni tanto vi chiamo perché vi seguo con passione al di là della passione azzurra ma anche con interesse. Mi da sempre delle cose corrette. Continuo a dire e forse fino a quando non stancherò che noi abbiamo una società da direttanti, non da professionisti. Il silenzio stampa, il silenzio dopo le vicende ultime, quelle del 2018-aprile, nessun commento, nessuna cosa. Mi fa più pensare che non ci sia connivenza, perché non credo che arriviamo fino a questi termini, ma che ci sia un timore riverenziale nei confronti di chi detiene il codice. E' molto buono. Un'ultima cosa, tratteggio. Abbiamo anche una federazione che si ora e si dicono. Io ricordo quando il Napoli non è andato a Torino. Gravina, presidente della FIGC, fu durissimo dicendo che chi sbagliava avrebbe pagato, perché quello è il principio che regge il sistema della FIGC. E' giustamente corretto, regolamenti alla mano, chi sbaglia paga. Ebbene, dopo quello che sta emergendo sul caso Rossato, che oltre che ridicolo è anche illusuale ed irregolare, io non ho sentito un commento da parte della federazione. Quindi noi abbiamo un sistema che è poco credibile, oltre che ridicolo. Chiudo il precedente. Prendis Lime ci aveva aspettato che parlava di calcio, di programmazione, ma vedo che la sua vena cinematogratica prevale rispetto al suo intendimento sportivo. Vuole fare film, vuole fare fiction, ma in realtà con questo non si vincono gli scudetti. Buona giornata. Grazie, grazie a te, ma non è che non si vincono gli scudetti, non si va neanche in Champions, perché se le tre grandi sono diventate di nuovo grandi e in Champions ci vanno loro in un modo o in un altro, e dopo diventa complicato poi tornare in Champions League. Se tutto questo va bene alla presidenza del Napoli, ma va pure bene, lo dice esse. Noi siamo proiettati solo sull'Europa League perché non siamo in grado di essere al passo con le altre. Basta dirlo, però parlando di calcio, perché il presidente del Napoli è a capo di una società che si occupa di calcio, e il calcio non è che sforna palloni, non è che lui vende palloni, lui utilizza quella che è una passione dei tifosi ed è diventato grande questo business Napoli proprio perché c'è tanta passione di tanti tifosi. Se finisce la passione è come quando ti finisce il cotone per cucire i jeans. Se tu non hai più il cotone i jeans non li vendi più. Vabbè dai, è arrivato anche il momento di fermarci per... È vero, pochi istanti, poi continuiamo a dialogare con voi attraverso lo 08163636363, a poco. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si confia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si confia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta a 081636363396669990 per i vostri messaggi scritti e vocali. Ci scrive Rob, a conti fatti siamo usciti più che per Verona, per il gol regolarissimo, Dio Simen annullato e non ha detto una parola il Presidente, a differenza di quanto fece Vigorito, ha giusta ragione. Sentiamo anche un messaggio vocale e poi andiamo al telefono e dopo abbiamo anche un paio di ospiti importanti. Cioè il nostro Presidente, tra virgoletta nostro, sta facendo finta di niente, praticamente come non fosse successo niente, Raffaele, niente. Quello che è successo un mese fa, c'è qualcosa in più. Cioè, non lo so a che gioco sta giocando, non lo so a che scopo vuole arrivare il Presidente, non lo so. Questo non l'ho capito ancora, forse non l'ho capito solo io, ma tanti tifosi napoletani. Non lo so. Sono sconcertato dalle parole di ieri del signor Presidente Romano. Ragazzi, un abbraccio, Enzo D'Ambacoli. Enzo D'Ambacoli ci manda il suo disappunto, cambiamo anche un amico al telefono, sì. C'è un altro Enzo, sì. Sì, sono Enzo, Enzo da San Giorgio. Buongiorno, Enzo. Ciao, ciao Raffaele. Allora, uno dei pochi giornalisti ancora in cui vedo quando tu parlo di tu è Paolo Delgeno. Scusi di due del tu, eh. Mi devi dare del tu, certamente. Eh, perché mi sono scocciato di alcuni giornalisti che difendono sempre questo Presidente che da anni ci illude, perché lui potrebbe fare una bella conferenza e dire ragazzi, io non voglio vincere. Lo può fare perché comanda lui. Ma no che ci illude, che vuole fare i film su Napoli, le serie tv. Però non l'ha mai luso, Enzo. No, no, allora, Raffaele, il 2012, aspè, però il 2012, Napoli Siena, ti ricordi questo anche io voglio vincere come voi. Io non me la dimentico più quella frase. E ce l'ho ancora memorizzata in me. Anche il 2012, Napoli Siena, l'ultima partita di Cavani. Anche io voglio vincere come voi. Non l'ha fatto, Audimma. Raffaele, scusami. Non l'ha fatto. Che cosa significa per lui vincere e che cosa significa per te vincere. Può darsi che siano due cose diverse. Perché andare in Champions tutti gli anni per me significa già vincere. Perché vuol dire che sei una società solida, puoi permetterti di comprare dei calciatori, ne puoi ingaggiare di importanti. Quindi già andare in Champions sarebbe una cosa importante. Non esserci andato quest'anno per il secondo anno di seguito significa un forte decremento nelle finanze del Napoli. Mi meraviglio che Dell'Aurendis non abbia speso una parola su quanto accaduto all'ultima giornata di campionato quando, lo ripeto, il Napoli, fischio d'inizio, era in Champions League. Poi contro il Verona. La partita che tutti quanti vi ricorderete. Messaggio vocale, poi torniamo di nuovo al telefono. Buongiorno, da Lello da Quarto, ciao a voi Marziani, ciao Raffaele, ciao Andrea. Il 1988-89, solo per appurare una cosa che si diceva in giro, Garella, Ferrario, Bagni e Giordano furono mandati via dalla società e poi dopo abbiamo saputo che non c'entrarono niente, sono sempre dei professionisti, mentre lui non se ne importa proprio quello che fa in Napoli, basta per lui arrivare nel palazzo per spartare i soldi, solo questo. Se no si doveva andare, ciao. Salutiamo anche Lello da Quarto, c'è al telefono un altro amico che si chiama Salvatore, eccolo qua. Salvatore. Pronto? Salvatore. Ciao, sono Salvatore. Buongiorno. Io voglio dare un mio pensiero pure io, al di là del Presidente della partita, io non riesco ad esaltarmi con la partita della Nazionale, specialmente quando se gli insegni, sarò anomalo, ma io, a parte il fatto che lo vedo distratto non più con l'interesse di prima, ma specialmente quando se gli insegni e fa tutte quelle cose io mi arrabbia ancora di più di quello che è successo con la partita con il Verun. Perfetto, dai, ho capito, il trend è sempre lo stesso, ne possiamo dire di più finché non saranno gli altri. A dire, vuoi rispondere a questo amico, Andrea, perché ne sei più a conoscenza, mi potete dire in percentuale la trattativa Flemming quanto è avanti? Dai una tua percentuale, Andrea. 0%, 0.1% perché tutto può succedere nel mercato e banalità di questo tipo. Vincenzo al telefono, buongiorno. Salve, buongiorno Raffaele, buongiorno Falco, vi ringrazio per lo spazio che è dedicato a noi tifosi. Sono talmente così amareggiato, talmente così svuotato, che sentire ancora dichiarazioni da parte di un presidente che pensa ad una serie tv, che pensa a chiamare gli ex calciatori per avere le autorizzazioni, magari forse anche la famiglia di Maradona, perché io voglio dire, ma perché non fai in modo di… stai facendo allontanare la passione dei tifosi, quella che è la perva e del fuoco che una squadra debba avere. Cioè noi viviamo di passione per questa squadra e per arrivare a essere svuotato io personalmente, che ho abitato per 30 anni vicino a Campo Paradiso, e lui non ha nemmeno idea di quello che noi abbiamo fatto per il Napoli e quel Napoli ha fatto per noi. Cioè noi negli ultimi anni ha fatto in modo che noi tifosi proprio ci allontanassimo. Allora non facendo più gli abbonamenti, non facendo più niente, voglio sapere come lui come si sostiene, perché sembra pure che ci ridicolizza quando fa delle interviste, che certamente si deve rimanere sempre nella linea di rispetto da parte di tutti, però sembra quasi che ci snobbi. Allora io chiedo anche ai tifosi organizzati, non c'è stata una parola, non c'è stato un comunicato, non c'è stato nulla, cioè ma dove dobbiamo arrivare a questo punto? Non lo so, però hai detto cose comunque anche condivisibili amico mio, quindi per questa ragione, come puoi notare Andrea Falco, il sentiment della gente oggi non è tanto sapere chi comprerà il Napoli l'anno prossimo, ma capire il Napoli cos'è adesso, che cosa può diventare, che ruolo avrà, che dimensioni avrà all'interno di un calcio sempre più governato dai potenti che decidono se fare o non fare la Superlega, se essere con o contro la UEFA, contro le organizzazioni, contro il calcio, ecco queste sono delle cose che sono fatte contro il calcio, quando dico calcio non parlo di azienda, parlo di sport dal quale poi è nata l'azienda e non viceversa, non è che è nata prima l'azienda calcio e poi da lì hanno fatto uno sport, è il contrario e questo nessuno mai dovrebbe dimenticarlo. C'è Fabio al telefono, buongiorno. Buongiorno, senti il mercato più lineare tranquillo dovrebbe essere questo, Emerson Palmieri al posto di Mario Rui con Mario Rui alternativa. Emerson Palmieri oggi guadagna 4 milioni di euro, se viene al Napoli ne vuole anche di più, quindi io trovo che sia quasi impossibile che venga Emerson Palmieri, però se lo prendono sarò felice di poter dire che mi sbagliavo. Ho capito. Si sta raccontando questa cosa che Raffaele, che Spalletti l'abbia chiesto espressamente come priorità del suo mercato, che il Napoli stia provando da accontentato. All'epoca anche Mazzar richiese espressamente Lucas Leiva e Jerome Boateng e De Laurenti si meno che gli disse no non te li prendo, solo che poi non sono arrivati. E uno dice me lo puoi comprare tizio e lui dice sì, poi dopo qualche tempo si dirà non è potuto venire, non è potuto venire, non avevamo i soldi. Amici miei ma è così dai, io non mi sento di biasimare nessuno, però bisogna sapere che è così, non è che dobbiamo prendercela con qualcuno. E permettetemi, è stupido chi ancora casca nel tranello. Dovete capire che funziona così, basta, poi scegliete voi. Mi piace? Lo seguite. Non mi piace? Seguite altro, per carità. Messaggio vocale? Buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere la trattativa riguardo Torsby. Cioè quindi un affare fatto per il Napoli, secondo voi un giocatore adatto alla squadra, alla società o all'esimo, non so, che ne pensate di questo Torsby? Allora, questa considerazione di questo amico Andrea mi permette di dire una cosa che è successa ieri, io ho chiamato il presidente Ferrero ieri, no? E lui come è sempre molto carino, cordiale, simpatico, mi prende in giro, mi sfotte, gli piace questa cosa qui. Ieri stranamente, lui non ha i numeri memorizzati, si chiede sono a prima, ah ciao, non ti sento bene, cade la linea, perché evidentemente non voleva parlare di tante cose che in questo momento bollono in pentola la Samp, l'allenatore, lo stesso Torsby che secondo me, è vero, non è un calciatore completo, però a me piace, ha una bella fisicità. Caratteristiche molto precise che a Napoli mancano. Cioè, se lo metti nel centrocampo, sta benissimo Torsby nel centrocampo del Napoli, quindi non è una de minuzio. Io credo che sia molto più funzionale di Bakayoko, uno come Torsby, anche se ha una propensione offensiva, non ha ancora qualità nel controllo come può averla altri calciatori come Berge, come Camarà. Lui è molto offensivo, quindi non mi dispiace. Torsby, se il Napoli lo prende, secondo me, non sbaglia affatto. Ora dobbiamo fermarci perché poi andiamo in Svizzera, eh? È vero, andiamo in Svizzera per parlare un po' della partita di questa sera, quindi a tra poco. Eccoci qua, caro Andrea Falco, direi di andare subito in Svizzera, per la precisione a Zurigo, credo che si trovi lì, perché abbiamo un nostro amico, un agente molto importante a livello europeo. Esatto, un grande operatore di mercato, ma soprattutto un grande conoscitore di calcio. Gianluca Di Domenico, buongiorno. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Guten Tag, mein Freund. Herzlich willkommen, mein Freund. Mi senti bene? Mit danke, 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 mein Freund. Sei in viaggio, sei in auto, ma non vieni a Roma a vedere la partita, immagino, no? No, sto andando a Lausanna. A Lausanna. Purtroppo non posso venire a Roma. Peccato, se no credo che avresti visto una bella partita dal vivo, perché è vero che la Svizzera ha pareggiato contro il Galles, ma è una squadra molto solida e c'è anche un tuo assistito nella Svizzera, no? Cioè Fasnacht che potrebbe anche entrare questa sera. Sì, certo. La Svizzera purtroppo con il Galles ha avuto grande possesso palla, ha tirato 21 volte in porta, quindi è una squadra che ha anche un'altissima esperienza a livello europeo. Certi giocatori fanno già il terzo mondiale, hanno fatto già tre europei, quindi è una squadra svizzera che veramente si dice la più forte generazione di tutti i tempi. Purtroppo con il Galles ci sono stati quei 20 minuti dove si sono lasciati andare e questo gli ha causato il gol del pareggio che non si è più riusciti a vincere la partita. Tu pensi che giocherà solo Embolo o accanto a lui ci sarà anche Seferovic? Tu che conosci bene Petkovic tra l'altro. Sì, Petkovic è uno che tiene il tutto sempre allo stesso sistema con la difesa 3, dà tantissima fiducia a Embolo e Seferovic anche quando erano in difficoltà, quando Embolo nello Schalke non giocava, quando Seferovic aveva dei problemi al Benfica, quindi sicuramente il stridente Seferovic, Embolo con Serdan Ciacchiri dietro le punte, Petkovic non lo cambia. Penso che lui faccia la difesa 3 con Rodriguez a Canji Elvedi e cambierà il quinto, il quinto non sarà più Rodriguez come con la partita contro il Galles potrebbe entrare Zuber al suo posto o anche Vargas dell'Aufsdurge. Penso che sulle fasce cambierà sicuramente. Che ne pensi dell'Italia invece? È una formazione che non perde da tantissimo tempo tra l'altro. Come italiano, di origine italiana, da quando guardo l'Italia da bambino, dall'82, devo dire che è la prima volta che ho potuto vedere una nazionale italiana che vuole fare possesso gioco, che vuole tenere palla, che appena perde la palla subito vuole riconquistarla, è una cosa che non l'ho mai visto fino ad oggi, è una nazionale moderna, col calcio moderno e fa davvero impressione. Ho trovato però che è stata un'Italia non molto pulita nei passaggi, specialmente fino ai 16 metri ha giocato bene però gli ultimi passaggi, la precisione anche nelle conclusioni non l'ho trovato tanta pulita nel gioco. Penso che con questa Svizzera, sì, l'Italia è favoritissima, ha le qualità più alte della Svizzera però devi giocare più concentrato che contro la tua via perché non bisogna sottovalutare la Svizzera, pareggiato col Galles ma è una nazionale che ha veramente un gran potenziale, una squadra di grande esperienza. Volevo chiederti Gianluca, proprio questo, la nazione italiana ipercelebrata per carità ha giocato una buona partita nella seconda parte e soprattutto viene da un periodo positivo, però un periodo positivo in cui ha sempre dimostrato un limite, ossia quello come dicevi tu nell'ultimo passaggio, nella conclusione, in effetti la sblocca con un autogol e poi va a valanga, mentre invece ha fatto fatica fin quando non ha sbloccato la partita negli ultimi 20 metri, io credo che la Svizzera tiene presente questo, uno come Petkovic, bravissimo, un volpone, sa bene che se l'Italia chiude gli spazi qualcosa ancora lì davanti manca a questa squadra. Sì certo, diciamo che è un'Italia per me abbastanza calcolabile nel gioco, cioè con Insigne Berardi e il terzo è Immobile, penso che sia un'Italia, sono giocatori, il modo di giocare dell'Italia è molto calcolabile per me, penso che la difesa svizzera ha più qualità di quella della Turchia e per questo ti dico che è importantissimo la qualità dei passaggi, la conclusione, c'è stato tante volte nella partita con la Turchia dove si poteva andare diretto in conclusione, invece si è cercato ancora quel passaggio in più che dopo alla fine non ti ha permesso la conclusione, io penso che contro la Svizzera via Canci, del Borussia Dortmund, Rodriguez e anche una grandissima esperienza, il Vedi del Borussia Mönchenglappas sono veramente dei difensori centrali di altissima esperienza e qualità che daranno filo da torcere a Italia. Gianluca, non so se te l'ha chiesto Andrea perché mi ero un attimo assentato, ma si parla tanto di Omeragic, questo ragazzo classe 2000, non vorrei sbagliarmi adesso, che è aggregato alla Nazionale, non credo che andrà in panchina stasera da quello che leggo delle probabili formazioni. Noi abbiamo visto qualcosa di Omeragic e dà la sensazione di essere un difensore forte e anche tecnicamente molto valido, tu hai notizie su di lui, un eventuale trasferimento in un club italiano che possa essere anche il Napoli? Allora, i rumori del Napoli ci sono stati, erano arrivati qui fino a Zurigo, io posso dire che Omeragic è un giocatore, lo si può paragonare ad Akanji, è un giocatore che ha una buona apertura di gioco, ha un buon timing nei contratti, nel gioco aereo e per un 2002 a veramente arrivare in Nazionale Svizzera, essere titolare dello Zurigo, ti dimostra le sue qualità. Purtroppo ha avuto un infortunio che non si è ancora riuscito veramente a riprendere. Non è oggi un giocatore pronto per giocare una partita così importante come quella contro l'Italia, non penso che sia un giocatore adesso pronto per una squadra così importante come il Napoli che quando ritornano gli spettatori ci sarà una pressione immensa. La piazza di Napoli è una delle piazze più difficili in Europa assoluta, quindi penso che Omeragic il prossimo passo che lui possa fare sia in una squadra come un Udinese, come un Verona, dove bisogna assolutamente dimostrare perché il calcio italiano è difficilissimo e vive molto della tattica. Però è un giocatore che ha le sue qualità però non essendo oggi in campo dimostra ancora che non è pronto ma non c'è niente di male per un 2002. Gianluca per salutarti mi piace sottolineare un aspetto che nella vostra agenzia la Eleven che è molto forte avete un ragazzo che si chiama Nicolas Mucci che viene definito il nuovo Iguain. Tra l'altro la bellezza è che lui ha tre passaporti italiano, svizzero e tedesco e gioca attualmente nella nazionale under 16 italiana, quindi potrebbe essere un ottimo prospetto non solo per la nazionale maggiore ma anche per qualche club italiano. Non so, c'è molta attenzione su di lui o mi sbaglio? Sì, allora Nicolas Mucci come quando si dice, penso che anche un giornale italiano lo aveva scritto, quando si parla di Iguain si parla più del suo modo fisico come all'approgio nel calcio, un giocatore molto fisico che cerca subito la conclusione. Ha tre passaporti italiano, tedesco e svizzero, è stato convocato già nella nazionale under 16 però ultimamente ha giocato nella U18 svizzera. Io penso che in generale, non voglio fare nessuna critica alla nazionale italiana perché non ve lo potrei mai permettere, però posso dire che ci sono tanti italiani in Svizzera, specialmente nel settore giovanile, io posso dare un piccolo consiglio ogni tanto di andare a vedere questi giovani perché sono veramente, ma non solo in Svizzera, anche in Belgio, Olanda, Germania, questi giovani italiani talentuosi ce ne sono veramente dappertutto. Nicolas Mucci ha debutato in Serie A con il Lugano, avevamo diverse offerte e richieste dall'Italia e dalla Germania, io penso che questa prossima stagione, in questa stagione esso che inizierà, Nicolas Mucci potrà fare un grandissimo passo e sarà come Oberagic uno di quei giocatori di cui se ne parlerà tantissimo. Bene, tra l'altro giocherà il 19 e tra pochi giorni, lui fa parte del team Ticino, giocherà contro l'under 18 dello Young Boys se non sbaglio, no? Sì, lui giocherà su tutto, l'amichevole contro l'Inter con il Lugano, per la preparazione estiva, sì. Va bene caro Gianluca Di Domenico, è sempre un piacere sentirti, grande competente di calcio oltre a essere una persona straordinaria. Ti ringrazio per la nostra amicizia e spero di rincontrarti presto. Grazie a voi di cuore e un grande saluto a Napoli, ciao. Ciao Gianluca, grazie, grazie a Gianluca Di Domenico, è arrivato il momento di fermarci ancora una volta e poi dopo avremo un altro ospite, che dici? È vero, ultimo blocco tra pochissimo, pubblicità. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Allora, ricordo 081636363396669990 per i vostri messaggi scritti e vocali, ci scrive l'amico Sanchez, salve a tutto il popolo azzurro in mancanza del Napoli, tifo Italia, nonostante le avversità e il trattamento di una parte dell'Italia che hanno nei nostri confronti. Quest'Italia mi ricorda molto l'Italia del 90, forza Napoli, sempre, ma è giusto così, caro amico Sanchez, anche perché noi non è che possiamo farci condizionare da una parte minima dell'Italia che è insofferente nei confronti del Meridione. Noi siamo italiani, anzi, vorremmo esserlo sempre di più se questa unità si completasse nella maniera concreta, ma soprattutto sotto l'aspetto industriale ed economico. Direi di tornare al telefono, Andrea, perché abbiamo un altro graditissimo ospite, un nostro amico, tra l'altro, è il nostro capo supremo, no? Possiamo chiamarlo così. C'è Andrea? Esatto, il nostro capo supremo, Carlo Verna, in collegamento, buongiorno. Presidente dell'Ordine dei giornalisti, se no la gente non capisce il capo supremo che è. Buongiorno, Carlo. Buon pomeriggio, Raffaele, buon pomeriggio, Andrea, scherzosamente mi prendete in giro. Assolutamente, mai. Sono il vostro rappresentante protempore. Ma non ci mancherebbe a... Rappresentante protempore che comunque è sempre molto attento alla nostra professione e tra l'altro svolgi il ruolo nella maniera che a me piace tantissimo, perché sei vicino a noi, non ti ergi sul piedistallo come spesso può succedere quando uno ha un incarico così importante, sei al nostro fianco e magari parli prima degli altri, proprio perché sei rappresentante protempore. Tu, tra l'altro, sei uno che difende la categoria perché va difesa, soprattutto quando ci sono degli attacchi e delle considerazioni poco garbate che screditano la professionalità. cioè, quando il presidente De Laurentiis chiama i giornalisti pennivendoli, secondo me è un modo offensivo per provare a far tacere una parte della stampa. Tra l'altro, io non so se tu ti puoi fare promotore, mi piacerebbe se il presidente De Laurentiis facesse un periodo di praticantato presso un giornale, perché è la sua ossessione il giornale, per capire come funziona il giornale, perché lui ne parla senza sapere come si fa un giornale, però lui è convinto di saperne. Un bel praticantato protempore in un giornale, così capirà, uno, le difficoltà che abbiamo noi giornalisti, due, che se tre giornali sportivi hanno gli stessi titoli e gli stessi pezzi, perché la notizia quella è, non è che uno fa una notizia, la stessa notizia fa titoli diversi e pezzi diversi, quella è la notizia, e come la vuoi titolare? Perciò dico, non lo so, ti puoi fare promotore. Lasciami dire una cosa, Raffaele, che credo che il presidente De Laurentiis ritenga di conoscere un po' tutte le professioni e di saperle fare meglio di chiunque altro le sbocca, quindi questo non solo con l'attività giornalistica, consentimi questa battuta, poi entro nel merito di quello che mi stavi dicendo con una premessa, una di carattere generale, visto che parlavamo di rappresentanza della categoria, mi fa piacere sfruttare questo spazio per dire che il giorno 22 sarò in corte costituzionale, perché l'ordine è stato ammesso come parte su una questione che riguarda per la diffamazione della peneditale del carcere giornalistico, è qualcosa di inaccettabile, conosciuta negli altri paesi, ripudiata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e quindi svolgeremo questa funzione di rappresentanza. Nell'ambito della rappresentanza, con te ci conosciamo bene, ma dà chiarita questa cosa agli ascoltatori, io tendo sempre a distinguere il ruolo di professionista dell'informazione che ovviamente, come molti che ascoltano sanno, si occupa per quanto mi riguarda da tanti anni di seguire le vicende del calcio Napoli con quelle della rappresentante istituzionale della categoria, perché l'ordine è un ente pubblico ad appartenenza necessaria. E allora non interverrei sul tema dell'Aurentis se nella rassegna stampa del giorno 15 maggio, esattamente un mese, un giorno fa, non ci fossero queste mie dichiarazioni sul Presidente della Fiorentina Commisso, dissi, quello che è accaduto con il Presidente Commisso contro i giornalisti che danno notizie è un caso nazionale che andrà sottoposto alle massime autorità del calcio e dello sport. Nessuno può accettare chi fa parte di un movimento sportivo, io in maniera pelese, principi concitti dalla Corte Costituzionale, in particolare l'articolo 21 e il diritto del cittadino ad essere correttamente informato che è il rovescio passivo di questo fondamentale articolo della Costituzione. Basta cambiare la parola commisso, il nome commisso con il nome dell'Aurentis, la dichiarazione è esattamente la stessa. E allora io vorrei condividere con te, con Andrea, con chi ci ascolta, come dire, l'esigenza di una iniziativa che per quanto mi riguarda diamo una moratoria al Presidente dell'Aurentis, in questo momento ci sono gli europei di calcio, le massime autorità sia della Lega che della Sede del Calcio sono attenti soprattutto a quel che sta accadendo, abbiamo fatto anche festa qui a Roma da dove ti parlo con l'inaugurazione di Casazzurri alla vigilia del vittorioso match dell'Italia e a questo punto lasciamo il tempo di questi europei, dopodiché la questione di come si atteggiano alcuni Presidenti, tra cui l'Aurentis, va apposta. Il fatto che il Napoli, mentre in UEFA si parla sempre, si è obbligati a parlare prima di una partita da febbraio, non parli. Penso che anche a te capiti di essere fermato per strada con la gente che chiede di sapere cosa sia accaduto in quella partitaccia Napoli-Verona, perché partite di un certo tipo, perse, le abbiamo viste, ma come è stata giocata Napoli-Verona non ne abbiamo vista nessuno, faccio un parallelo, ricorderanno tutti quanti Napoli-Perugia, 5 giornate dal termine, Napoli in testa alla classifica, Napoli-Ticroll con Juventus e Roma, gli azzurri persero con 1-0 con autogol di Ferrario, ma quella partita tra le parate del portiere malizia, il doppio palo colpito da Pellegrini, fu una partita giocata da un Napoli che uscì, come si dice metaforicamente, con la maglia strada. Quindi qua tutti vorrebbero capire se c'è stata qualche cosa, se è accaduto qualcosa, se il Presidente ritiene di dire qualcosa su questa partita che all'ultima giornata ha filato sotto al naso di tanta gente che ha seguito con passione un traguardo che sembrava ormai raggiunto. Credo che Napoli debba parlare, credo che non si possa accettare che al di là del silenzio arrivino persino gli insulti. Francamente è un tema che passati gli europei noi vorremmo, come oggi dei giornalisti, ma spero tutti quanti assieme a cominciare dai colleghi di Firenze dove è accaduto la vicenda commesso e di Napoli, quindi penso al Presidente Duperelli dell'Ordine dei giornalisti, penso a Mario Caccaria. Abbiamo anche come riferimento nazionale Gianfranco Coppola che adesso è Presidente dei Lussi e quindi i due temi, sia per quanto mi riguarda che per quanto riguarda Coppola che rappresentiamo a livello nazionale queste questioni, legano commesso a Tela Prenti. E' vero, hai detto tutte cose condivisibili che la gente che ci ascolta tra l'altro riconosce come argomenti di cui parlare perché altrimenti davvero il popolo di chi segue il Napoli è tagliato fuori dalle informazioni. Poi capita che magari provi a fare delle ricostruzioni su certi fatti e ti arriva il tweet, quello lì al vetriolo che dice il signor tal d'Italia ha scritto questa cosa qui, è sbagliato. Cioè ma c'è un altro modo per confrontarsi con la stampa, soprattutto se... Poi le posso aggiungere che per quanto riguarda l'Ordine dei giornalisti non saranno neanche tollerati i comportamenti compiacenti da parte di chi giornalista collabora con Napoli. Questo te lo dico un grande... Ah mamma mia che bella notizia che mi hai dato caro Carlo Verna finalmente... Naturalmente dipenderà poi dai consigli di disciplina ma se ci saranno asseggiamenti come dire contro i giornalisti e pro chi li insulta non ci saranno sconti né per Lombardo né per Baldari. Questo lo dico proprio con grande chiarezza, cioè sarò io a fare l'esposto al consiglio di disciplina. Quindi su questo proprio sia ben chiaro che adesso ci sono dei diritti della gente e dei giornalisti a fare il loro lavoro. Bene, sono contento che tu abbia preso la questione come era giusto che fosse, sei il Presidente e quindi è necessario anche prendere posizione. E naturalmente la stessa cosa accadrà verso i referenti toscani della vicenda fiorentina. Fiorentina. Carlo buon lavoro, grazie. Buon lavoro a te e a tutti. Buona giornata al Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, Carlo Verna. Abbiamo giusto il tempo di sentire un paio di messaggi. Qualche messaggio, dai. Eh sì, dai, tanto ne abbiamo accumulati abbastanza. Apriamone qualcuno, ecco, no? Senza far nessun riferimento a nessuno. Ma se l'Italia è al quarantunesimo posto al mondo per libertà di informazione, sarebbe il caso che almeno qualche responsabile del settore, dei giornalisti italiani, si facesse un esame di coscienza. Ma più che l'esame di coscienza, bisogna prendere delle iniziative, come ha detto anche il Presidente Carlo, Carlo Verna, quindi, non lo so, vediamo, perché comunque i messaggi che arrivano dai tifosi, Andrea, sono veramente di una quantità abnorme, soprattutto anche sulle parole di De Laurentiis, perché c'è un altro passaggio che forse è sfuggito e più, però ce lo sottolinea un amico che scrive, lo ha detto ieri De Laurentiis. Andare in Champions non conviene. Cioè, lo ha detto lui, eh, se non sbaglio. No, lo ha detto chiaro e tondo, lo ha detto chiaro e tondo, non c'è nessun interesse a partecipare a una competizione che ti fa fatturare 70, 80, 100 milioni in più, se poi per renderti competitivo, per qualificarti e B, per giocarla, ne devi spendere 200-300. Faceva parte, insomma, della sua critica. Ma lui non li spende 200-300 per arrivare in Champions, dai, Andrea. Forse si riferisce al Milan e all'Isa. Questo è il contraddittorio che manca nell'intervista, perché poi è così, non li spende. Non li spende lui, no, per carità. Magari li avesse, magari li spenderebbe pure, ma non ce l'ha. Allora, ciao, mi dico Raffaele, il guaio non è quello che dice dell'Aurentis, però il problema è che qualche tuo collega vuole spiegare a noi poveri fessi quello che voleva dire dell'Aurentis. Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio e poi lasciamo spazio a Marte Sport Live. Dai, apriamo. Buongiorno a tutti. Ragazzi, ieri per me è morto il calcio. E non sto parlando di quello che ha detto dell'Aurentis, ma del fatto che Juve, Barcellona e Real Madrid non sono stati punti. Quindi è morta proprio la giustizia. perché è come se io, presidente di una nazione, subisco un colpo e magari perché parte di questi partecipanti si ritirano. Io non lo riesco più a fare il colpo, però non dico che non lo farò più. Lo metto lì in stand-by e quindi poi alla fine il presidente di questa stessa nazione dico, guarda, non fa niente, visto che non hai fatto un colpo, continua a vivere tranquillamente. Anzi, ti do pure i soldi per fare la Champions e quindi vai avanti così. Però non mi pare che sia proprio questo il concetto, anzi, tenere in stand-by sono anche le punizioni, da quello che si è capito. Non è solo di voler fare la Superlega, ma direi che la UEFA non si ferma qui. Conoscendo poi Zeferin, direi che comunque il suo intento è quello di andare avanti. Ultimo messaggio e ce ne andiamo. Io so solo una cosa, ragazzi. Dieci, undici anni fa, parlando con amici tifosissimi del Napoli, io dissi questo porterà la rovina del calcio a Napoli. Ah, così l'ha fatto. Possiamo giocare pure a Madrid, domani o stessi da Champions League. Ci sono tantissime squadre. Ci sono più squadre al mondo che non la fanno la Champions League. Le squadre con l'Ottro e Pasal Vizio, le squadre che giocano in Serie B, le squadre che giocano in Inghilterra, per esempio. Vediamo la passione dei tifosi a grandissima. E non fanno tutto quanto la Champions. Il problema non sono i risultati, è l'appartenenza con un territorio, con una maglia, con i tifosi. Chissi, non l'Atena. Oggi è qua, pure a Madrid, c'è una volta. Sì, in effetti questo è un dato che non bisogna mai dimenticare. Se tu scolleghi l'appartenenza della squadra alla squadra stessa, è finito il calcio. Perché dopo non vi finanzia più nessuno. Non si frega più nessuno. Diciamo che il Napoli in questi anni ha fatto un po' di tutto, senza volerlo magari, per carità, ma ha fatto un po' di tutto quello che c'era da fare per allontanarsi dalla gente e dalla piazza. Salutiamo, però ricordiamo che speriamo che possiamo avere notizie più incoraggianti da Ale Mao, perché è ricoverato in gravi condizioni in Brasile, perché è affetto da Covid, Covid che ha preso praticamente tutta la sua famiglia e la mamma è morta di Covid. Quindi preghiamo per lui, speriamo che possa tornare presto a miglior sorte. Un grosso in bocca al lupo, al grande Ale Mao. Dobbiamo chiudere, Raffaele. Salutiamo Toni Molà, la parte tecnica, la redazione, il capo ufficio stampa, Paolo di Genova. Ringrazio te, Raff. E ovviamente appuntamento a domani a mezzogiorno. No, stasera alle ore 20, caro Andrea Falco, perché oggi è mercoledì, quindi probabilmente è un attimo dimenticato. Ci sentiamo stasera dalle 20 alle 21, vi accompagneremo fino a pochi istanti prima dell'inizio della gara tra Italia e Svizzera. Ora Martesport Live, un'altra ora di grande calcio. Ciao!